Che cosa sta accadendo a Biella? Sta accadendo che il ministro Alfano attraverso le prefetture farà arrivare a Biella almeno altri 228 immigrati richiedenti asilo e clandestini di fatto. Le strutture biellesi secondo me non riescono a avere questa ricettività, pertanto c'è la preoccupazione fondata che si instauri un attendopoli a Biella per ricevere questi immigrati. Io trovo che sia una cosa inaudita che nel territorio biellese si possano proporre queste soluzioni e invito tutto il territorio a unirsi alla nostra protesta finché questo non avvenga. Se ci deve essere accoglienza ci sia nelle strutture idonee, se le strutture idonee non ci sono questi immigrati vengono mandati altrove o a casa loro.